Vediamo l'accensione Praticamente si tira Si tira un po' a moto con la tirata Stacca l'aria Vediamo il contagio Ora c'è un 2 Fai vedere che va Questa è molto potente ragazzi Adesso affogava un pochino Perché è finita la benzina Si E questa qui è l'ape ragazzi Mi può fare vedere in giro? Eh ma dove si va ora? No vabbè fai qui per il varco anche per sentire il fish dei rapporti E cazzo gli faccio una bella stiratina Semmai domani la faccio dai Ok Qui finisce il video? Qui finisce il video?